I carabinieri di Sciacca hanno effettuato alcune perquisizioni nell'ambito dell'indagine della Procura della Repubblica per risalire ai responsabili della morte di una trentina di cani avvelenati nei giorni scorsi in località Mucciare. Le analisi sui bocconcini avvelenati hanno rivelato che la morte è stata causata da un potente insetticida, di quelli usati abitualmente come disinfestante in agricoltura, acquistabile solo da persone in possesso di un apposito patentino. I controlli dei militari, che al momento hanno dato esito negativo, hanno riguardato i soggetti in possesso di questa autorizzazione. I magistrati, inoltre, hanno disposto il sequestro di alcuni documenti dagli uffici del comune di Sciacca relativi alla gestione da parte dell'ente del problema del randagismo. Non ci sono ancora indagati, ma sono state già sentite diverse persone considerate informate sui fatti. Intanto, domenica prossima, avrà luogo il raduno degli animalisti provenienti da tutta la Sicilia e da diverse altre zone d'Italia. Sarà una manifestazione pacifica, assicurano gli animalisti, nonostante le numerose reazioni politiche e i commenti sui social con un linguaggio particolarmente minaccioso nei confronti del sindaco. Siamo certi che le forze dell'ordine e la magistratura riusciranno ad individuare e assicurare alla giustizia gli autori di questa barbarie, dice Franco Andaloro, delegato WWF per la Sicilia. Ma è anche necessario che siano prese subito misure più drastiche, affinché non possano ripetersi più eventi drammatici come questo. Il sindaco Francesca Valenti, al Comune, ieri ha preseduto un vertice con i veterinari del servizio pubblico e l'aspedia Grigento ha annunciato un'intensa campagna di sterilizzazioni a tappeto. L'indignazione però non si ferma, troppo grave l'ha accaduto. Sulla questione è intervenuta anche Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ente protezione animali, EMPA, che ha chiesto al direttore del Giro d'Italia, Mario Vegni, di annullare il passaggio attraverso sciacca programmato nella quinta tappa della corsa ciclistica del maggio prossimo. Un gesto di grande e profonda sensibilità, che spiega Rocchi, sarebbe apprezzato dalla stragrande maggioranza degli italiani. La richiesta dell'EMPA nasce dall'indifferenza finora ostentata dal Comune alle richieste dell'Associazione di contrastare l'emergenza randaggismo con misure di prevenzione e di contrasto che, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, garantiscano la tutela degli animali. Questa indifferenza, aggiunge l'EMPA, è alla base dei ripetuti avvelenamenti verificati sin passato sul territorio comunale di Sciacca e della strage di questi giorni, costata la vita ad una quarantina di animali. Purtroppo neanche il massacro sembra avere indotto le autorità ad un cambio di passo, poiché nulla di certo è dato sapere né sulla bonifica dei luoghi né sul recupero dei cani sopravvissuti. Nulla, insomma, sembra scuotere il Comune dal torpore. In attesa che la magistratura accerti le responsabilità penali dell'accaduto e che gli elettori facciano valere quelle politiche, dice Rocchi, chiediamo a una manifestazione sportiva tanto prestigiosa e amata, come appunto il Giro d'Italia, di farsi portatrice di un messaggio di civiltà e di contribuire alla protezione di tantissimi animali che purtroppo sono vittime delle croniche inadempienze delle nostre istituzioni. Grazie.